Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora, primo video outfit, stasera me ne vado al cinema, anzi stasera fra 3 secondi squilla il mio fidanzato e me ne vado al cinema e ho pensato a un piccolo outfit molto easy però con dei dettagli i dettagli mi aiuto sono, mi avvicino questi orecchini che li trovo adorabili, sono tre pallottole inargentato e vabbè, il cuore a metà e questo anellino poi su ho un maioncino granata con diversa lavorazione della maglia qui diciamo è liscia e sul collo e il risvolto delle maniche è una lavorazione a maglia non so se si riesce a notare, più pelusciosa diciamo così come faccia non ho nulla soltanto mascara, tantissimo e luci da labbra, rossiccio rosa fucsia allora questa è la maglia sotto ho una gonna di jeans nera corta, abbastanza corta e sulle gambe ho messo delle calze molto scure simile a leggings in questo modo e giù ho messo dei tacchi degli stivaletti in velluto nero con la particolarità del tacco e zeppa marroncino e questo dettaglio glitterato con svaroschini, no svaroschini e brillantini che danno un po' di luce ciao allora per rimanere abbastanza sportivo ho deciso di mettere questo giubbotto imbottito come si chiama, addio più mino che ha la particolarità di avere la cinta in vita stretta con vabbè è di Benetton quindi qua c'è scritto Benetton due taschine e anche sul polso ha il dettaglio della zip e ha collo alto e vabbè dietro ha un cappuccio scusate i capelli eccolo qua il cappuccio come borsa ho deciso di mettere questa nera non so se si nota non credo ah eccola qua ok questa nera però l'ho preferita mettere con la tracollina per rimanere abbastanza sportiva e non portarla a mano ancora la devo riempire però è una misura abbastanza piccina sì ecco qua questo è l'outfit completo in più ho scusate guantini neri con la parte indietro di pelle in modo di assassino così non mi prendo le impronte digitali e su un berrettino perché sono una freddolosa spero che questo primo outfit vi piaccia e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba